gloria a dio fratelli vogliamo prendere insieme nel vangelo di marco leggo lo stesso episodio tratto da un altro vangelo che ho letto stamattina alle 8 e 30 oggi il signore mi sta mettendo nel cuore un peso per i bambini per quelli che sono piccoli e che devono essere portati davanti a gesù dicevo anche stamattina ma lo dico anche adesso di solito questi passi vengono scelti per le scuole domenicali per le chiusure delle scuole domenicali per eventi legati a bambini e da stamattina che sento nel cuore di invece di presentarne alla chiesa del signore ai presenti una domenica tranquilla ordinaria del mese di luglio e da stamattina che ho questo brano stamattina l'ho preso dal vangelo di matteo e oggi lo voglio prendere dal vangelo di marco è più o meno la stessa cosa se non che nel vangelo di marco troviamo qualche riferimento qualche particolare in più quindi marco capitolo 10 dal verso 13 marco capitolo 10 dal verso 13 c'è scritto gesù benedice i bambini dio ci benedica gli presentavano dei bambini perché li toccasse ma i discepoli sgridavano coloro che gli presentavano gesù veduto ciò si indignò e disse loro lasciate che i bambini vengano da me non glielo vietate perché il regno di dio è per chi assopiglia a loro in verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di dio come un bambino non vi entrerà affatto e presili in braccio li benediceva ponendo le mani su di loro signore ti preghiamo con tutto il nostro cuore per la parola ti preghiamo per il tuo popolo la tua chiesa per quanti sono in ascolto ti preghiamo signore che questa parola possa scendere nel profondo del nostro cuore e darci ciò di cui noi abbiamo veramente bisogno in questo attraverso questo insegnamento signore grazie perché noi sappiamo che ogni cosa che viene da te risulta per la tua gloria ma anche per la nostra stessa benedizione edificazione ti chiedo ogni cosa nel nome di gesù benedetto in eterno amen dunque gesù benedice i bambini e questo lo sappiamo già probabilmente probabilmente sappiamo anche per esperienza che che gesù ha un particolare interesse per i bambini i nostri figli sono figli nostri ma sono li riconosciamo come un dono che viene dal cielo un dono che viene dal signore però stamattina io vorrei ecco meditare su un passaggio veramente importante che ripeto da stamattina prima del culto delle 8 e 30 mi pesa mi pesa nel senso spirituale anche chiaramente nel senso più positivo del termine qui noi abbiamo come è raccontato anche nel vangelo di matteo abbiamo una folla fatta di famiglie fatta di padri di famiglie di madri e di tanti bambini probabilmente famiglie anche numerose forse con tanti figli con tanti ragazzi a carico possiamo immaginare un po la situazione di quei tempi com'era no popolare sociale anche spirituale poi ad un certo punto si verifica questa scena che queste famiglie più che presentarsi con i loro bisogni con i loro pesi più che presentarsi con qualche necessità di guarigione come di solito vediamo nei vangeli vediamo delle famiglie dei genitori che spingono davanti i loro figli i loro bambini dovevano essere anche coppie giovani perché si parla proprio di bambini spingono i loro bambini davanti a gesù il motivo per il quale questi genitori spingono questi bambini davanti a gesù è perché li toccasse ora vorrei che ci fermassimo un attimo qui fratelli per meditare su questo passaggio importante questi genitori non stanno portando i bambini davanti a gesù punto ma li stanno portando davanti a gesù perché li toccasse cambia tutto dovete immaginare la scena del genitore del padre della madre con gli occhi sul bambino che porta davanti a gesù intento a vedere il tocco di gesù e soltanto dopo che gesù ha toccato questi bambini sembra che questi genitori ovviamente siano soddisfatti contenti finalmente gesù li ha toccati eravamo venuti per questo volevamo che questo avvenisse ed è avvenuto ora come dicevo stamattina voglio dirlo anche adesso è un momento importante per i bambini oggi veramente importante è un momento così importante dove si stanno giocando una partita veramente forte non vorrei dire una finale ma la questione è molto molto seria molto molto seria come voi state notando in giro nella società anche il cambiamento di queste leggi indipendentemente dalle ideologie dalla diabolicità di alcune cose ma io vi vorrei far notare l'attenzione di tutto questo movimento sui bambini sul bambino e l'attenzione non è come si vuole far credere sulla libertà di espressione sulla protezione dalle offese dalle ingiurie sulla evidente libertà che una persona debba avere nel sentirsi cosa chi c'è una chiarezza indescrivibile sul fatto che ad essere toccati sono i bambini un terreno meraviglioso in generale pulito un terreno sul quale puoi seminare tutto che tutto ti dà se semini il bene ti darà il bene quel terreno se semini il male ti darà il male proprio perché è un terreno nuovo pulito fresco no? tanto è vero che Gesù dice dovete essere come i bambini se volete entrare nel regno dei cieli dall'altra parte si vede chiaramente tutto questo canimento, attaccamento, voglia di seminare determinate cose nel cuore dei bambini possiamo soltanto immaginare quale potrebbe essere il risultato devastante che non vediamo adesso ma che potrebbe essere fra, non dico tanto, fra 5-10 anni se non fra 15 anni allora è chiaro che se in Italia nel 2012 scopriamo che l'Italia è la prima nazione per lo sfruttamento della prostituzione e ad un certo punto si decide di operare nel campo del Signore perché vuol dire che se c'è una schiavitù di questa portata allora vuol dire che bisogna intervenire con le armi del Vangelo è chiaro che se ci si scopre che la droga ha fatto una devastazione enorme in mezzo a tanti giovani ragazzi ma anche meno giovani e quindi ad un certo punto con la predicazione del Vangelo si sono create delle cose, dei progetti per poter raggiungere il numero più alto possibile di uomini e di donne a cui predicare il Vangelo per liberarli da questo dramma grazie a Dio per tutti questi ministeri che nel tempo sono nati io credo che inizia a presentarsi il tempo in cui Dio deve suscitare uomini e donne interessate ai bambini non ai bambini nel senso sociale ma a quei bambini che devono essere portati davanti a Gesù affinché Gesù li tocchi e questa è una sfida fratelli oggi più che mai dobbiamo dobbiamo uscire dall'idea che i bambini in chiesa vanno intrattenuti i bambini in chiesa vanno portati a Gesù e le sfide che ci proponiamo come chiesa oggi è quello di non sottovalutare i bambini di non sottovalutare anzi di alzare la soglia dell'attenzione visto che indipendentemente da una legge se passa o non passa la distruzione è già iniziata l'attacco è già sferrato e la chiesa del signore non può stare a guardare certo stiamo pregando noi stesso come associazione avete visto ci siamo esposti scrivendo un documento ma non significa che staremo a guardare se passa perché se una legge non diventa ufficiale non vuol dire che non sta camminando sotto banco lo stesso e allora la chiesa deve chiedere oggi più che mai una pienezza affinché si inizino a manifestare in mezzo a noi uomini e donne di Dio che hanno la capacità spirituale di portare i bambini davanti a Gesù perché Gesù li tocchi li tocchi vogliamo che il signore ci liberi da tutte le camere di intrattenimento che ci siamo creati negli anni e che il signore inizi a accendere il fuoco in queste camere stanze di scuola domenicale dove i bambini vengono toccati da Gesù dice il testo gli presentavano dei bambini perché li toccassero non posso sapere che cosa c'è nella mente di questi genitori perché è un fatto diciamo così anche un po' anomalo noi in evangeli siamo abituati a vedere giustamente ammalati indemoniati ad un certo punto vedi questi bambini e non posso sapere che cosa c'è nella mente di questi genitori che cosa sta spingendo questi genitori a portare i loro bambini affinché Gesù li toccasse è altrettanto vero che nell'antico testamento c'è una triste immagine invece di bambini se vi ricordate circa 42 bambini al tempo di Eliseo che probabilmente non non vivevano all'interno di famiglie che il cui desiderio era quello di insegnare loro la parola di Dio perché se vi ricordate questi 42 bambini nel giorno in cui videro Eliseo tra l'altro il giorno prima aveva compiuto un miracolo per la città aveva fatto da parte di Dio aveva compiuto un'opera che era risultata di benedizione per la città il giorno dopo quando Eliseo che era calvo sale per la strada dove si trovano questi 42 bambini questi 42 bambini o ragazzi lo prendono in giro scherzano con il profeta sali calvo e scherzare con l'opera di Dio significa accendersi un fuoco che brucia poi dopo la triste realtà di quell'episodio se vi ricordate che uscirono delle orse dai boschi che uccisero tutti e 42 ragazzi fu un giudizio tremendo ma la questione è questa fratelli e lo è anche per i bambini anche per i ragazzi se i ragazzi si troveranno sulla strada per ridere deridere dell'opera di Dio la fine è questa il giudizio è questo si troveranno uccisi cioè spiritualmente trucidati distrutti no? da tutto quello che il mondo propone questi genitori invece portarono i loro figli davanti a Gesù perché li toccasse e un particolare che è stato rilevato anche nel Vangelo di Matteo stamattina è che i discepoli sgridano che contraddizione eh? i discepoli sgridavano coloro che glieli presentavano indubbiamente credo eh immagino che sia più una questione di ordine di movimento perché i bambini creano sempre un po' di come dire di apprezzione il loro modo di muoversi io immagino questa folla che si muove questi bambini che saltano e corrono verso Gesù nell'immaginario chiaramente mio personale immagino che non ci deve essere stato questa questo ordine spirituale che magari di cui i discepoli magari gradivano e che avevano visto in altre occasioni sgridavano sgridavano i genitori immagino prendete i vostri figli eh quanto movimento stanno disturbando il maestro non si fa così no immagino qualcuno che ha magari alzato anche il tiro eh tieniti i figli vicino a te eh immagino ecco la scena li sgridavano perché li portavano davanti a Gesù ora questa contraddizione fratelli la possiamo risolvere soltanto nella misura in cui comprendiamo che i bambini sono bambini e devono andare a Gesù come bambini non come adulti quando diventeranno adulti saranno adulti ma c'è un loro modo c'è un loro linguaggio c'è una loro comunicazione che Dio può benedire proprio nella loro misura e nella loro misura farli arrivare alla grazia di Dio l'appello che io faccio che ho fatto anche stamattina ed è la mia preghiera non è un appello nel senso di come dire di assemblea no è un appello nel mondo spirituale l'appello che io faccio è che il Signore veramente susciti uomini e donne giovani il cui interesse da questo momento in poi sia quello di portare i bambini davanti a Gesù per essere toccati come ho detto stamattina lo dico anche adesso fratelli se i bambini non vengono toccati da Gesù saranno toccati da altro saranno subiranno violenza da altro se vengono toccati da Gesù saranno segnati dalla grazia di Dio questa deve essere la nostra preghiera non deve essere semplicemente portarli in chiesa non deve essere semplicemente insegnare loro il versetto a memoria e quindi siamo felici perché ce lo ripetono il versetto non deve essere semplicemente una questione diciamo di compagnia altrimenti rischiamo proprio come i discepoli anche di stufarci diventa pesante diventa pesante se tutto questo diventa un movimento da gestire da coordinare da ordinare da sistemare no? noi dobbiamo avere chiaro nella mente che è arrivato il tempo in cui non solo gli adulti gli anziani non sono quelli non solo quelli dei crocicchi ma anche i bambini devono essere come genitori ovviamente dobbiamo portarli davanti a Gesù perché siano toccati Gesù si indigna addirittura verso i discepoli viene tremendamente infastidito provate a immaginare la faccia di uno che è indignato provate a immaginare la faccia di Gesù che è scocciato non indignato verso i discepoli e poi Gesù ovviamente li esorta i discepoli gli dice lasciate che i bambini vengano da me non glielo vietate non glielo vietate perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro con questo Gesù sta dicendo anche una cosa molto importante i bambini in mezzo a voi sono un patrimonio sono una ricchezza dalla quale bisogna prendere esempio addirittura quindi non sono la Chiesa di domani sono la Chiesa di oggi sono quella parte della Chiesa di oggi che si configura come bambini fanciulli che non perché sono bambini significa che non hanno bisogno del Signore proprio perché sono bambini hanno già bisogno del Signore i figli dobbiamo portare in Chiesa fratelli e dobbiamo portare nella presenza di Dio senza il tocco di Gesù non vi basterà educarli la potenza del mondo è più forte della vostra è quello che noi abbiamo dentro che ci renderà vincitori proteggiamoli ma proteggiamoli vicino a Gesù portiamoli davanti a Gesù e non accontentiamoci di tenerli vicino a Gesù noi dobbiamo dire a Gesù di toccarli Gesù li devi toccare devi stendere la tua mano su di loro mio figlio deve sentire il tuo tocco è piccolo deve sentire il tuo tocco mia figlia ha bisogno del tuo tocco Gesù il tuo tocco non del tocco degli altri del tuo tocco lasciate che i bambini vengano da me non glielo vietate perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro tanti insegnamenti noi potremmo prendere dai nostri figli dai nostri bambini dai nostri ragazzi tanti in verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto e concludo guardate che passaggio importante presi l'imbraccio Gesù presi l'imbraccio lì benediceva ponendo le mani su di loro è una figura che se la lasciamo al nostro immaginario è bella romantica Gesù con i bambini ma qui spiritualmente c'è più di una immaginazione che possiamo farci stamattina un padre e una madre che si toglie il bambino e glielo mette in braccio Gesù ha capito come funziona la fede ci dobbiamo fidare di Gesù fratelli a volte senza che ce ne rendiamo conto siamo così protettivi noi che il senso naturale della nostra protezione io parlo un padre di quattro figli che rischia addirittura di limitare la benedizione del Signore sullo stesso proprio figlio dobbiamo fidarci del Signore dobbiamo portare i nostri figli i nostri bambini proprio tra le sue braccia li prese in braccio li benediceva ponendo le mani su di loro chi sa qual è stato il futuro di questi bambini chi lo sa non c'è scritto nella Bibbia non viene fuori ma sono sicuro di una cosa che quel tocco li ha segnati sicuro sono certo di questi tantissimi tantissimi ragazzi giovani anche adulti hanno raccontato in futuro nel loro futuro che erano stati toccati dal Signore quando erano bambini e che per una serie di motivi poi non erano andati avanti con il Signore si erano allontanati però molti hanno testimoniato che poi sono tornati al Signore sono tornati proprio ricordandosi di quello che avevano ricevuto quando erano ragazzi è stata una forza d'attrazione quella fratelli abbiamo davanti a noi io prego che il Signore possa illuminarmi sul da fare prossimo adesso è estate riposatevi tutti ma io prego che il Signore possa illuminarmi perché sicuramente sicuramente la nostra comunità deve scendere in campo anche sotto questo profilo per portare numerosi bambini davanti a Gesù perché questo è il tempo se nel mondo delle tenebre c'è un attacco verso i bambini e lo guardiamo lo vediamo vuol dire che dall'altra parte la Chiesa del Signore ha le armi per poter vincere e per poter manifestare la potenza di Dio a partire dai nostri figli chiaramente e anche su tutti quelli che magari per un motivo o per un altro riporteranno in mezzo a noi credo che questa confusione possa tornare utile in ambienti di persone non convertite per rivolgersi alla Chiesa che conserva il modello sano credo perché questa confusione confonde anche chi non conosce il Signore quindi davanti a noi si apre una porta come dice Gesù alla Chiesa se vi ricordate di Filadelfia una porta davanti a te bisogna saperla sfruttare questa porta perché questa confusione ha confuso pure i figli delle tenebre e probabilmente i figli delle tenebre cercheranno la luce cercheranno la testimonianza e noi dovremmo essere pronti per portare i figli dei figlioli delle tenebre davanti a Gesù affinché li tocchi e li benedica alziamoci all'impinto